E' bello amare il calcio. Liga Serie A e Team presentano la Serie A Team. Amici della Serie A Team, buonasera e buon calcio da Giampiero Foglia Manzillo. Dopo la vittoria in Europa League contro il Salisburgo, oggi alla Dacia Arena contro l'Udinese, la Lazio cerca un bis che permetterebbe ai Bianco Celesti di scavalcare l'Inter e di agganciare la Roma al terzo posto. Fischia Rocchi, si comincia! Lasagna di testa che prova a servire Maxi Lopez, sportellate con De Frey, difende il pallone, poi troppo arretrato per Lasagna. Arriva però alla conclusione di Strieger Larsen, parata, senza difficoltà da Stracoscia. Palla lunga di Noitink, a cercare la corsa di Strieger Larsen, su di lui in marcatura De Frey, dal fondo in mezzo, Lasagna! Torna al gol e trova la rete del vantaggio l'Udinese, ottava o centro in campionato per Kevin Lasagna. Luisa Alberto dalla bandierina, palla dentro, Bastos anticipato, il recupero di Immobile ci prova col destro, palla che decolla in curva. Luis Alberto, il destra a uscire, sul primo palo, il colpo di testa e poi Pizarri che rischia moltissimo. La conclusione di Lucas Leiva, Pizarri ci arriva in due tempi. Aggancia in cielo il pallone Felipe Anderson, scavalca così Noitink, prova a mettere dentro, chiudono in due. Lulic ci prova col sinistro, diventa un assist per il gol di Ciro Immobile che riporta in parità il match del Friuli. Milinkovic, dentro a cercare Immobile la controlla, Luis Alberto col destro, battuto Pizarri, la ribalta la Lazio con il centro di Luis Alberto. Per lui fanno nove in campionato e la Lazio è in vantaggio. Riparte Udinese Lazio alla Dacia Arena. Movimento in profondità di Immobile, cerca la giocata invece dall'altro lato, il velo di Patrick per Luis Alberto, ai 16 metri, ci prova col destro a giro. Pallone largo di poco, si lamenta Milinkovic-Savic che chiedeva palla dall'altro lato. Murgia adesso può avanzare, prova la botta con il destro, pallone alto. Murgia, la corsa di Marusic, inseguito da Strieger Larsen, Marusic l'ha frenata col sinistro, la mette in calcio d'angolo Bizarri. Trova spazio per la conclusione col mancino, Adam Marusic mira all'angolino lontano, la rincorre Lasagna. 90 minuti in campo per lui, il cross adesso da sinistra, il colpo di testa al lato di un soffio, ci ha provato Jacopo Biancto, ha preso benissimo il tempo per l'elevazione. Il tocco dietro, Murgia la controlla con il destro, palla al lato, occasione per il 3-1 e per chiuderla, triplice fischio di Rocchi. La Lazio batte l'Udinese al Friuli, decima vittoria esterna per i Bianco Celesti.